E oggi siamo su Roblox Molder Mystery Season 2 E io ho questa skin bellissima che mi piace Con i capelli di God Di horror Che mi piacciono tantissimo E vi faccio vedere un trucco se lo cerate ovviamente Cioè lo avete Andate qui Dopo qui E siete il re del muro del mystery Aspettate qui Guardate come mi guardano Guardate come mi guardano Wow Ok Cadiamo giù perché Wow ma questa è la mia stessa skin Ciao fratello Ciao Scrivemole ciao Scrivemo ciao Hello Eh No ci posso credere Posso ballare Non ci posso credere Hanno aggiunto anche che si può ballare Ma bellissimo Dai quando partiamo Partiamo dai Io voglio fare una ricerca Se si può Se si può io non lo so Se si può io non lo so Perché sono un nabo Nel porcuro Ok Qui cosa sa c'è Ok Ho perso già Due minuti di video E ci vediamo Al muro del mystery Ragazzi Eccoci E io sono innocente Ve lo posso No Io scappo via Perché non ti voglio vedere Scappo via Ho paura Ma mi sto seguendo Ma mi sto seguendo No 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 C'è qualcuno C'è qualcuno Che Che sta uccidendo No E' qui vicino E' vicinissimo Perché si sente il suono Ok Mi posso sedere Non mi posso sedere Ma non posso Posso ballare Sulla sedia Sì Posso ballare Sulla sedia Ok Non mi ho scoperto Non mi uccidere Ecco Lo sapevo che era lui Lo sapevo Era troppo Troppo ovvio Ecco la partita finita Allora dovrebbe Ma dovrebbe partire E se vengono qualcuno Io li scrivo Hello Eccoci Sono innocente Me ne vado via Ce mi sta scriendo Qualcuno è lui No Troppo paura Che è lui Non sono troppo Impressione No No Vattene via Vattene via No 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 Troppo gente Troppa gente Troppa gente Troppa gente però Dai Andatenevi via Per favore Per favore Andatenevi via Perché sono paura No 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 Scappiamo Tutte E lei E quella Accelerata là Detto il quadro Non ce ne sono Non c'è niente Ciao No No Ho paura Ha paura Di essere Peccato Grazie Se mi stai Proteggendo Amicos No C'è lui Mi arrabbio Emo Emo Ciao Io me ne vado No Questo c'era anche In una partita Che ho giocato prima Per provare Come Ficcione Perché Non Gioco Molto Amore Deli Misteri E Ho troppa paura Per essere Peccato Un è tipo pauroso sono tuo amico non sono un deficiente che ti vuole uccidere no sono un amico veramente sono un amico balliamo dai balliamo balliamo fino a domani cos'è successo vittorio madonna sì abbiamo vinto abbiamo vinto anche se sì partiamo con la prossima partita io me ne vado già ti prego no voglio essere il mordere sono stato solo una volta anche Gero forse non lo so sentiamoci ho paura ho paura oh oh è quello là è quello là io seguo quella dai vieni da me non sono un deficiente che ti vuole uccidere no 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 là c'è un deficiente che mi vuole uccidere io non voglio essere ucciso vattene via ti prego ti prego non mi uccidere cosa sto facendo sono veramente fuori di testa ok quanti siamo e non dici ok è abbastanza buono è qui vicino bc e noi balliamo e noi ballamos e noi ballamo come se non ci fosse un domani e noi ballamo noi ballamo e noi ballamo come se non ci fossero un domani come se non ci fossero un domani dai prendo stessi ultimi per non attirare la gente qui ok non venne nessuno ho un po paura no 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 non venire qui era lui l'ho visto ti prego uccidetelo ti prego uccidetelo no no dai però è la madonna però perdo sempre no abbiamo perso abbiamo perso e noi ballamo come se non ci fossero umani e ballamo come se non ci fossero umani e ballamo come se non ti fossero umani Ok, non balliamo, ti prego un mugri, è indocente, no è qui, è qui, lo sento, il rumore lo sento che sta succedendo. E noi balliamo, come se non ci facciamo, facciamo un po' grande il cospero, perché voglio vedere se è rosa col cammino. Non, 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 non! no 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 non mi uccidere non mi uccidere e mi ha ucciso e mi ha ucciso Ecco ragazzi, dopo cinque anni, finalmente l'hanno ucciso, lo cattivo che uccideva, dai. Vuoi almeno una volta io? Ecco. Ecco. Ti prego, no, inocente, centomila volte. E io con la mia fortuna, e io con la mia fortuna, sì. Io con la mia, ciao. Mi potete aiutare? Ho paura. Ho paura. Sono un piccolo bambino che vuole essere aiutato. Perché ho paura. Ho paura. Dai, nascondiamoci qui con questa. Ma cosa ha sulla... Non so, non mente. Ha una ape. Wow. È un'ape che li vuole in panno. No. 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 A me non mi uccidi. A me non mi uccidi. Allora, almeno non so quale. Ecco. Qui ci sono iahrpunti. Non ce ne io, amico. Scappi... mi uccidi. Ma che... Come fanno a rendere così veloce questo? E qui. E qui. E qui. E qui. E' qui. E eccola. No. È uno. Non è uno. Ma almeno andiamo... Qui dentro. Oh, buon posto. Posso un po' se... Se arriva, io mi butto così tanto che mi butto. Così tanto che mi butto. E... Proviamo a scrivere... No, no, non proviamo a scrivere qualcosa perché cosa è meglio. E prenderò i soldini. Sperando che non arriva qualcuno che mi può uccidere. Non cadere di sotto. Guardate, sono un alieno. Sto volando. Nel cos... Nel... Non è un contenitore. Mi stanno sparando. Dai. 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 Sparata la parola. Finalmente. Abbiamo vinto. E no, cosa facciamo? Ci mettiamo a ballare. Ragazzi, mi piace tantissimo sta modalità. Questa è la mia mappa preferita. Io sto qui nel buio. Anche se non è un posto molto sicuro. Ecco. E... Ho paura. O siamo, dai. Io non mi fido. Andremo qui. Questa mappa più o meno la so perché prima quando giocavo mi era capitata. qui nell'angolo c'è un po' di buio. No, no, non mi uccidere. Ecco. Ma questa è Anna. Ma questa è Anna. Dai, perché... ce l'ha anche il nome. No. Ero un suo fan. E mi ha ucciso. Dannazione. Che sfortuna. E se l'ho ucciso dalla... Ok. Notiamo insieme all'uomo degli ingotti. E noi ci mettiamo a ballare. Mettiamoci un ballare. Ma non lo sapete come sto ballando anche nel giro di l'aria. Come è lui? Lui? Beh, mi ha incontrute. O Eric? Sono tutti qui. Sono tutti qui. Sono tutti qui. E qualcuno è il... 100% è il di lui. Secondo me è lui. E ci puoi uccidere facilmente. Ovviamente. Facilmente, ovviamente. Non mi uccidere se sei tu. E se mi capisci. E se mi vedi. E se sei un mio fan. Ma perché? Non si può passare. Non ci posso. No. Volevo bagare il sistema. Si vede la mano? Si, si vede. E noi siamo nel bagno. Non mi uccidete. Ecco. Ecco. E' lui. E' lui. E' lui. E' lui. E' lui. Dai, mi ha incontrato a te. Oh, è lui. Oh, è lui. Oh, è... Quale sta? Oh, è lui. Ho un pochettino di paura. Lo sapevo. Solo lo sapevo. E' lui. E' lui. Cosa che mi metiamo? Non, non è così! Non è così! Non è così, non è difficile di essere così. Doppi, ci metiamo qui e balea. O balea, moma! E così? Perché stai rivedendo? Voi baleare! Voi baleare! E qua? E voi baleare! E voi baleare! Innocente come sempre. Ma se? No, non ti bugare. Non ci posso credere. Ho trovato il nascondiglio dell'anno. Non mi troverà nessuno, vero? Io faccio così la visual. A 10 visual ho 10 like. Più 10 like. Più di 10 like farò un video 24 ore. 24 ore. Giocando solo a Roblox. O Roblox è solo un altro gioco che volete? Che mi consigliate? Si vede un pochino il ciuffo? Dai. Non venire da me qui. Non c'è nessuno. È solo la voce della tua testa. Mandatenevi video. Madonna vicinissimo. Come me. Perché sto gestando il video ovviamente. O sono dietro le vostre spalle? No, questo non lo vedo. Abbiamo vinto. Sì. 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 No. 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 Voglio ballare. Voglio ballare ho detto. No. Immaginate che ancora c'è la cancione. Vi prego. Ciao. Ci sentiamo qui sotto. Non era una buona idea. Era una buona idea invece. Invece era una buonissima, una buonissima idea. Ok, fratello dai vieni con lui. Chi è stato? Non sono stato io, fratello. No, no, no. No, ovviamente. No, ma ovviamente no. Dai, vieni. Vieni da papà. Vieni da papà che careccia con il catello. Ciao. Ciao. Ok, perché ho paura se sono il muro del... Ok, qualcuno ha la pistola e lo devo uccidere. No! Porco schifo però! No, almeno sono stato il muro del... E' bella. E' bella. E' bella. Basta con se... video. Eh, non ci senti niente nel video però. Eh... ti prego di nuovo, ti prego. Il nascondino... Il nascondino della vita. Della vita. No, vai fuori. Così. Così va bene. Non mi noterà nessuno. Sono certo e sicuro. Forse è un po' noia essere qui. Ma dai. Ma cosa è questo? È capito. È capito. È capito. Un po' noia essere qui. Non sono in inglese. E noi balliamo. Perché ballare fa bene al video. E io non so ballare. Se beviamo un po' di acqua. Fredda. Ecco. Ok, siamo in otto persone. Basta. E vai fuori. Ma vai fuori. E avete ragione. Devo andare fuori per ucciderli. Ecco. Per farmi uccidere. Per farmi uccidere volete. Voi volete che io soffra. Ho capito. E noi ci f***iamo qui e balliamo. Sopra la statua. Sopra le sue corna. Le sue teste. Sopra le sue corna. Si. Ho vinto. Si. Ho vinto. Si. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Ho vinto. Ha vinto. È definito. dai e noi scriviamo e noi non scriviamo niente la posa della vita è della vita perché fa bene la vita questa è l'ultimissima partita no ecco perché è l'ultima ma nevica stiamo soffrendo no non stiamo soffrendo volevo dire soffocando ecco dai troviamo un nascondiglio no e ora mi uccide e ora mi uccide ok forse non è lui lui e noi ci metiamo a ballare sono nel nero dell'oscurta e la madonna ma dai non ce n'è tanto per vedermi dai non mi ha visto ok ecco è terminato controlla bene se vuoi vincere e là c'è qualcuno che ha scritto kill me e lo hanno ucciso wow che significa uccidetemi wow l'hanno ucciso eh lo volevo lo volevo forse scherciavo ma è così la vita vivi buona vita vita felice o vita che ti odiano tutti nella mia vita felice e dopo muori dopo muori perché è una vita triste anche triste felice ma anche difficile sì mostri mori dentro casa che praticamente dormiamo nella nella terra nel in terra ecco ma non in terra fuori dentro la casa nella terra in terra in terra ecco non so se si è capito e noi usiamo perché siamo in undici ciao fratello madonna quante monete non mi uccide ma mi uccide quello abbiamo vinto vuoi che balliamo che balliamo aspetta poi balliamo 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 si adesso 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 voglio lo squalo? Sì, come va? Eh, ragazzi, il video si conclude qua e vi auguro buona giornata. Ok, non sono nel mobile, ma sarò fuori da questo gioco. Ciao ragazzi!